Aiuta Gary, aiutiamo Gary Attenzione Aiutiamo Claudio con i Power Avengers You know what, you really are something What bigger picture? We are gonna take over this school We are not taking over anything right now Time and tide wait for no man, my friend but it seems they do wait for wannabe tough guy who's nothing but a little girl You're full of it, so you keep telling me Look, now come on, I promise you after this, things are never gonna be the same again Oh, sono molto felice! Dev'essere di stoppare queste pillole da anni fa. Sì, certo. Che cosa dici, Gary. Ma questa qui che è? Questo è sempre qua fuori. Madonna, quanta nebbia. E io la palla! Gol! Che si fa qua? E prendi l'altro, no? Ma dove va? Ma non prendere appugni Gary! Prendi appugni... Ah, però va. Prendi appugno Gary e non prendi appugno i bulli. Madonna, ha fatto una botta. La botta è dello scantinato. Oh, Claudio, nello scantinato, lo sapevo. Ecco perché non si fa più bene. Hanno messo nel basement, hanno messo. Ah, vandalismo, io pensavo ci fosse qualcosa. Qua non c'è niente. Ho letto. Qua? Ah, vabbè. Ma che c'è? Ma vabbè la porta... o... Questa? Non qui, follow me. Non qui, follow me, follow me... Ma sei proprio... Sei proprio un follow me. Ma dov'è? È qui. Dice che si può aprire? Non possiamo arrivare! Come possiamo arrivare al switch? Questo deve fare qualcosa! Jimmy, qui! Tutto! Spezzagli tutto! Come possiamo arrivare al switch? Spezzagli tutto! Ho presi pe tardi che... Che erano due! Ah! Con... No! Eh dai! Ancora... Vabbè! Non qua! A lui! Qua! Lì! Eh Jimmy, vedi che puoi� vengare la cerdà! anche se non ci! Dipetto! Non ci ringrazio! Ok, non ci ringrazio! Dove è il cavo elettrico! È che ruota la cerdina? Sì, ripa, abbiamo inizio! Mi ricevere. L3 already nesse ride! Il invece canale che ti impegno. Non prima evitazione! Ancora lì! Questo non è trash! Eh, un lente! Ho sentito di questi succedenti, ma non ho mai visto uno! Ma cosa succede se prendo le zucche? Oh, c'è ancora un transponder! Buono, questo serve! 25, 26... E dove hai il giro? E 27... Testa di zucca sbloccata! Ah, vabbè! E che devo far qua? Scusa! Se il vapore si fermerebbe... Ho capito, ma... Il problema è che non so come... come stoppare! Oh, c'è una estrematura di foglio! Eccolo! Ma perché fa così? Ma come fa così? Ma come fa tornare a scaldarsi un... Boh, vabbè! Se lo spento con l'estintore, cioè... No, qua c'è la cola-cola! C'è la cola-cola! Eh, si è tornato lo stesso, no? Che c'è, c'è in arena col sordo! Ma non è normale, sto gioco! Oh, beh... DESTROI! 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 Così fa Russell quando... Andiamoci in casa... DESTROI! 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 CRONSO! RUSSEL! Quattro! Ehi, RUSSEL! RRISSEL... RUSTEL! Come lo stesso! I canto lo stesso... RUSEL! Come lo stesso! Ehi, RESTROI! Come lo stesso! Vieni, RUSTEL! Vieni! Come lo stesso! immagino che sia un problema di mortacci scuola che sei mica ecco dead on line dead on line eh il video così oh goddio fermo 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 eccolo 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 ma caccia boom pazzia oh che culo comunque c'è stambato su tante c'è? adesso quando usi l'epistodio eh quando usi l'epistodio prendi R2 per sparare come te non ti spara la mano che mi schiacciata eh lo so ho detto io devi da evitato un input a sparare uno sotto e poi da poterlo rifarsi lo so però non capisco perché sta cosa qua cioè dovrebbe presentarsi questa cosa qua no è vabbè ma mi ha fatto la battista bomba ma che cazzo è? no l'altra volta c tua che è successo? questa qua è proprio il tuo cago da al piede oh codio si sciolta si scioltà cazzo sei oh è caduto ma non cade? Mamma mia piglia, mamma mia piglia, mamma mia piglia Eh, sono caduto io, sei piglia Anche lui però Eh, ma mi ammazza Via Eh, la madonna, ti sciottano Aiuto Ma perché? Insomma Ma non scivola lui, non scivola Ha scivolato, ma scivola anch'io, eh, lo sapevo Ma, eh, dai Si continua a scivolare A me il culo Ma lui si continua a scivolare e vola Si fa male, ma penso voi di no Aiuto Eh dai Guardavamo, ha fatto la W2J come ha fatto Non ho un arranco nell'inventario qualcosa Oh, ce l'ho fatta Oh vichio Di nuovo Di nuovo attaccio? Ha fatto la W2J ma ha fatto Qualcuno mi spiega cosa ci fa Il clode su Dante Eh, non lo so Cazzo è la fine del mondo Ma infatti da me Ma infatti da me c'è il cielo rosso C'è il cielo rosso e ci sono le nuvole che vomitano acido Da me fa più caldo che sfreddo Quindi devo cominciare a preoccuparmi Ah, perché c'è un po' di bambini A questo posto che bisogna un peggio E tu puoi prendere un po' di bambini E tu puoi prendere un po' di bambini C'è successo, c'è successo C'è successo, c'è successo Oh, ok Oh, bad Russell Anche perché ci devo fare l'abitudine tanto Perché? Ah, è vero Perché? Perché fa un po' di bambini Perché fa un po' di bambini Ma come non puoi uscire? Io sono uscito prima Che modale Eh, non c'è Vabbè, se non l'ho guardato mai E se non l'ho visto male In teoria anche nei supermercati vendono Sì, appunto Sì, appunto L'essere lunga che ci vuole E se non l'ho visto male L'essere lunga che l'ho visto la lontana Eh, mica Sono andata alla spesa Perché ci lo occupo è proprio Ok, sir Vabbè, prod Se proprio devi farci l'abitudine Guarda che c'è Grapis Anche Anche il gioco Ehi Per rischio Non termine male Giocando a questo E a roba di io Guarda che hanno cominciato a cuore I coglioni Senti Ma io sì Ma io sono stato il gioco